Ciao ragazzi, bentornati qua nel mio canale e finalmente anch'io vi parlo di Motorola Edge 30 che sta utilizzando da oltre due settimane e come scriverò nel titolo, no, per me lui non è un best buy, nonostante vada benissimo, nonostante i più furbi che seguono il canale Telegram Dillitech che io vi consiglio in ogni mio video se lo siano portati a casa a poco più di 300 euro, 305 euro circa nonostante tutte queste cose e nonostante, ripeto, lui vada benissimo, no, non è per me un best buy però ve ne parlo in modo dettagliato in questo video come vi ho detto però nell'intro del video, lui in realtà è un telefono che va veramente bene, va anzi benissimo e questo è dovuto prima di tutto alla sua scheda tecnica che non sfigura assolutamente confronto a tutti gli altri parliamo infatti di un processore 778G+, che naturalmente è il 5G e nel mio caso poi coadiuvato da 8 GB di memoria che è di tipo UFS 2.1 e 128 GB poi di memoria integrata che non è espandibile ecco, tutte queste specifiche però come al solito possono dire poco ma in buona sostanza lui ragazzi va veramente benissimo va benissimo e potete tranquillamente paragonarlo a tanti altri prodotti che magari hanno un processore un po' più potente però ecco per il futuro per esempio non saprei ad ogni modo vedete anche voi come nell'utilizzo quotidiano come andando a sfogliare le varie app come chiudendole anche in modo brusco come anche proprio la fluidità che vedete nell'utilizzare lo schermo va benissimo veramente nulla nulla da dire sotto il profilo delle prestazioni però adesso e vi dico adesso perché appunto sulla stessa fascia di prezzo o anche qualcosa meno trovate prodotti che hanno per esempio un 870 che forse per il futuro potrebbe darci qualcosetta di più però lui adesso nulla da dire ragazzi va benissimo e va benissimo anche per quanto riguarda poi la batteria perché all'interno troviamo una 4000 mAh che potrebbe essere poco molto poco per alcuni ma in realtà poi Motorola va a gestire in modo egregio tutto quanto e in effetti qua nei miei test ragazzi sono rimasto assolutamente sorpreso ne ho fatti veramente tanti di giorni ve ne faccio vedere qualcuno per esempio ecco il primo giorno però ci ho fatto benchmark ho fatto diversi test e 6 ore di schermo con 14 di utilizzo totale tutti quasi tutti in 4g alle 20 lui è morto però ragazzi ripeto 6 ore di schermo utilizzi classici un po più giornate tipiche diciamo 2 ore e mezzo di display 18 di utilizzo totale qui sono stato per lo più però sotto wifi alle 23 avevo ancora il 54 per cento di schermo un altro giorno diciamo di utilizzo misto tra 4g e wifi 4 ore e mezza di schermo con chiusura della giornata a mezzanotte tutto in 4g come vi dicevo e 20 ore di utilizzo totali vedete vi scorro qua una serie di altri giorni che ho fatto vedete comunque che alla sera sono sempre arrivato ecco mi soffermo su questo perché secondo me è esemplificativo dopo una decina di giorni di utilizzo 6 ore e mezza di display 17 di utilizzo totali quasi tutti in 4g comunque sono arrivato alle 23 di sera con ancora quel 5 per cento di batteria che mi permette insomma se vogliamo di stare tranquillo però 6 ore e mezza di schermo che sono veramente tante tra l'altro come vi dicevo tutte in 4g con maps come al solito la mia oretta di maps la faccio sempre e quindi un telefono che nonostante una batteria che non è immensa e che poi vedremo diciamo fa bene al design nonostante questo però motorola riesce sempre a gestirle alla grande nulla da dire veramente e poi vabbè a sto punto visto che avevo accennato mi soffermo proprio sul design perché secondo me ecco quella potrebbe essere in realtà una cosa che fa veramente la differenza perché lui è veramente ragazzi bellissimo è uno di quei prodotti che quando lo togliete dalla scatola nonostante vi dicano che sia nero o blu adesso non mi ricordo più però in realtà poi è uno di quelli che cambia colore che ha questo retro che va un po' a sfumare che ha quel bumper delle fotocamere che è bello perché è lucido in contrasto con l'opaco un opaco che quindi poi non trattiene molto le ditate le impronte e poi le cornici sono quasi piatte come va di moda adesso è vero la cornice è in plastica però il retro è in vetro gorilla glass 3 se non erro e comunque è un telefono che veramente si fa piacere e quello che poi lo caratterizza in modo importante che lo distingue da tutti gli altri è una cosa anzi due lo spessore che è inferiore ai 7 mm cioè 6,79 mm e un peso che è di soli 155 grammi per dire ci avviciniamo molto idealicamente idealisticamente a quello che potrebbe essere un Xiaomi Mi 11 Lite 5G New Edition o anche vecchia edizione è uguale più o meno però capite insomma un prodotto che si tiene veramente bene che si utilizza con comodità che si infila in tasca senza dare troppo fastidio e capite che in estate lui potrebbe essere assolutamente interessante e in più ragazzi non si fa mancare poi un display ve l'ho sbloccato un display che naturalmente è AMOLED ma non è un AMOLED classico è un AMOLED di altissima qualità altissima qualità innanzitutto anche qui per le specifiche perché è un full HD plus ok però è un 6,5 pollici a 10 bit che naturalmente copre tutto lo spazio colore DCI-P3 e ha un refresh rate da 144 Hz poi un HDR 10 plus ed essenzialmente è un display che va veramente bene che si utilizza con piacere che soprattutto come avete capito dalle caratteristiche è super fluido e che quindi lo si fa apprezzare però per esempio in esterna secondo me ci sono prodotti che fanno leggermente meglio come per esempio un classico Realme GT Neo 2 lui in esterno si vede qualcosa meglio quale luminosità massima secondo me più via software che un problema hardware però potrebbe essere migliorata ecco questo è migliorabile secondo me e poi vabbè sul fondo abbiamo la classica Type-C 2.0 c'è lo slot per le sim che è dual sim ed è tutto protetto come vedete anche dal classico ring che quindi lo rende IP52 insomma come capite come avete già visto in questi primi minuti di questa chiacchierata torno a Motorola Edge 30 lui non ha reali difetti fino a questo momento perché forse si poteva pensare all'autonomia ma in realtà l'autonomia non vale meno male tra l'altro c'è anche il caricatore a 33 watt che con una batteria così piccola in poco meno di un'ora ve lo ricarica al 100% però ha tanta concorrenza su questa fascia di prezzo e a 399 euro probabilmente ne lo consiglierei certo cambia il discorso se vi beccate una di quelle offerte che vi ho menzionato prima a 300 euro ma andiamo a vedere le ultime specifiche e quando vi dico andiamo a vedere le ultime specifiche beh lo sapete che naturalmente adesso parliamo di fotocamere ecco questa è stata forse la mia più grande delusione ve lo dico non vanno malissimo assolutamente ma mi aspettavo qualcosetta di più sinceramente innanzitutto le specifiche appunto mi facevano pensare a un prodotto finalmente riuscitissimo da parte di Motorola perché infatti qua abbiamo una 50 megapixel come principale con pixel da un micrometro e poi abbiamo un'altra diciamo 50 megapixel ultra grandangolare da 114 gradi che insomma mi faceva pensare a una ultra grandangolare con grandi risultati non manca poi il classico sensore di profondità da 2 megapixel e anche frontalmente abbiamo una 32 megapixel che anche qui mi faceva pensare a risultati eccezionali e non è che i risultati siano pessimi non sto dicendo questo perché soprattutto di giorno in realtà i risultati sono veramente veramente buoni nel senso che la messa a fuoco è molto rapida che il dettaglio c'è e c'è tutto tra l'altro c'è anche la possibilità di scattare a 50 megapixel pieni e però se di giorno ripeto va benissimo e va benissimo non solo quella principale ma anche con l'ultra grandangolare perché vedete voi come le foto realmente sono belle ricche di dettaglio calibrate con una buona HDR tutto quanto perfetto veramente però di notte purtroppo Motorola deve migliorare tantissimo a livello di software perché se con la principale riesco comunque a tirare fuori foto che sono veramente buone grazie naturalmente all'opzione notte non è un'opzione che posso utilizzare con l'ultra grandangolare e quindi le foto vengono disastrose con l'ultra grandangolare veramente da telefoni pessimi ma qui ho una 50 megapixel essenzialmente che non viene proprio sfruttata per le sue potenzialità e questo causa del software e mi dispiace e insomma capite che quindi c'è un po' di delusione da parte mia ma soprattutto per quanto riguarda le foto di notte chiaramente ci sono le Gcam che possono migliorare le Google Camera insomma che dir si voglia però non sono proprio semplici da installare per tutti è una cosa che è un po' per smanettoni e quindi è insomma difficile da consigliare al 100% a livello di fotocamere e anche i video sebbene non vengano male anche lì non mi hanno proprio proprio entusiasmato perché se sono buoni e ben stabilizzati con la risoluzione Full HD invece manca quasi completamente la stabilizzazione col 4K e quindi anche qui va un po' a storpiarmi il suo utilizzo al 100% una cosa tutto sommato però diciamo positiva se vogliamo è che se andiamo a utilizzare la fotocamera frontale possiamo registrare anche in 4K e questa non è una cosa banale perché su molti, quasi tutti, in realtà i telefoni manca mentre su lui manca su alcuni anche super top di gamma tenetene conto test di registrazione in 4K con Motorola Edge 30 e 4K a 30 fps sono solo 30 fps quindi insomma questo è quanto quindi insomma se volete registrare in 4K con la fotocamera frontale anzi diciamo quella del telefono quella che vi guarda, quella selfie con lui potete farlo naturalmente poi andiamo verso la chiusura di questa recensione essendo un Motorola ragazzi lui è un software che mi è piaciuto tantissimo come tutti i Motorola perché è un software che va bene veramente bene è il classico base con lui sembra quasi di utilizzare un Pixel dico quasi perché un Pixel è un'esperienza tutto sommato abbastanza unica abbiamo Android 12 anche qui però un piccolo difettuccio perché le patch di sicurezza sono aggiornate a febbraio 2022 e quindi un po' indietro insomma siamo già a maggio mi aspetterai qualcosa meglio mi aspetto un aggiornamento da qui a pochi giorni ma stiamo a vedere però per il resto come vi dicevo ci sono le classiche genialate di Motorola c'è soprattutto un always on display quindi diciamo la possibilità di vedere le notifiche senza sbloccare con anche interazione alle notifiche questo ragazzi vale da solo il prezzo del biglietto come ci sono le classiche genialate di Motorola ma che ormai conoscete sono sicuro e poi comunque tutto sommato mi sento di menzionare anche l'aspetto della connettività perché è una cosa su cui di solito non ci si bada o se ne parla poco ma ragazzi la connettività è importante perché vi sfido io a fare belle foto se poi non riuscite a chiamare e lui si comporta tutto sommato veramente bene sono riuscito a prendere diciamo un buon segnale anche in quei posti dove di solito facevo abbastanza fatica naturalmente come vi dicevo abbiamo il 5G abbiamo poi un ottimo wifi 6 che ha decisamente una connessione da wifi 6 quindi un'ottima velocità ben stabile non ha difetti non ha bug software non ha bug nemmeno con i vari sensori e quindi tutto bene e poi abbiamo anche il bluetooth 5.2 con gli aptX anche HD e insomma è una cosa anche questa secondo me da menzionare ultima cosa poi che mi stavo dimenticando quasi quasi di dirvi è il sensore di sblocco ve l'ho sbloccato avete visto che ci ho messo un secondo perché ecco lui ha un leggerissimo difetto anche qua che è forse un filo basso un po' in generale un filo basso ma basso ecco che alcune volte si fa quasi fatica diciamo ma tutto sommato però per il resto è veramente molto molto rapido non fa mai cilecca riesce sempre a leggere l'impronta è un bel 10 volte su 10 non è iper fulminio ma nemmeno lento come su altri prodotti che vi ho raccontato qua sul canale insomma in soldoni anche quello va bene come va anche bene va molto molto bene il comparto audio perché manca il jack per le cuffie però ha un ottimo audio stereo veramente buono magari il volume non è straelevato ma va a coprire quasi tutte veramente le frequenze mi è piaciuto tantissimo anche il comparto audio però ragazzi cosa vi devo dire che a 399 euro che è il prezzo standard al quale si trova adesso forse no direi che non è un best buy non sto dicendo che non lo consiglio lo consiglio ma non è un best buy però a 300 euro può essere tutto sommato molto molto interessante per la garanzia che vi dà Motorola per il software stock di Google che a questo prezzo e con le caratteristiche che ha forse lo rendono un po' unico a 300 euro però e di conseguenza se volete beccarlo a quel prezzo sapete che dovete seguire come vi ho detto all'inizio al canale Telegram Dilli perché se va in offerta eccola lo trovate per il resto insomma se volete i veri veri best buy sapete che sono altri come il GT Neo 2 come il GT Master magari a 200 euro il GT Neo 2 si trova a 300 euro oppure magari anche un S20 FE che da tanti viene scartato i miei ragazzi ricarica wireless impermeabilità software desktop Android 12 insomma tutte cose che si trovano a 340 euro con processore Snapdragon niente questo è tutto quello che vi dovevo raccontare se siete arrivati a questo fino a questo punto io vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video un saluto da Daniele Pintus e noi ci vediamo